Ulteriori conferme per la sicurezza cardiovascolare di Celecoxib ci arrivano dallo studio Precision e BPM, presentato a Barcellona al congresso annuale dell'ESC. Al contrario di naprossene e soprattutto di buprofene, il farmaco non ha aumentato i livelli pressori misurati col monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa. Ne abbiamo parlato con il professor Frank Ruschicka, principale investigator dello studio che è stato pubblicato sullo European Health Journal. Sentiamo cosa ha detto il nostro collega. Pre-specifo, che si chiama il gruppo dell'ESC vs. Celecoxib. E' quello che abbiamo fatto. In 60 U.S. sites, abbiamo, in l'ultimo, randomizzato 444 patienti per i naproxen, celecoxib, o ibuprofen. E' quello che abbiamo trovato il gruppo dell'ESC at month 4. Il primo punto di punto di vista è il systolic ambulatore blood pressure. E' il proprio progetto, per summarare questo, è un'impresa. Il aumenta la pressione molto più grande. Il più di 3 mm Hg di 24 ore. In molti patients, più di 10, 20 e ancora più. E' lo che si può dire, come 3 mm Hg di 3 mm Hg di 3 mm Hg di 100,000 bambini per giorno. che è 300 metri di mercurio ogni giorno che equate a 100 km di extra lavoro per il mercurio per un peccato e questo potrebbe raccontare perché queste drogze non sono state per il peccato quindi la pressione è la principale è quello che io diria l'area di curva di tutti i meccanismi di NSAID e, più importanti, l'Iboprofen è il peccato abbiamo avuto 35% dei pazienti sull'Iboprofen che erano bene controlli all'interno del studi che diventavano hypertensivi e necessitano di aggiornare di aggiornamento e di care Professor Buczynska you know very well la discussion about the safety of COX-2-selective inhibitors and of selecoxib in particolare because now rafelcoxib has gone since many years which is the message of the ABPM precision trial so what cardiologist needs to have in mind when they treat the patient with an anti-inflammatory drug to treat pain It's the icing on the cake of the previous study we've seen I think for many years we have been now focusing too much on the cardiovascular effects of NSAIDs and particularly selecoxib and actually you have to recall naproxib because it fiddles around a little bit with COX-1 has been touted by many as cardioprotective NSAID it's not and ibuprofen particularly is not because it also interacts with the effects of aspirin so what we learned now and we have to go over the books now in our guidelines that we should not just recommend non-selective NSAIDs under the presumption of greater cardiovascular safety precision has now clearly shown that selecoxib is not only non-inferior when you look at the on-treatment arms actually the overall cardiovascular, total mortality renal and gastrointestinal safety of selecoxib is at least as good as of the others if not better and here we've shown you now with the ABPM the mechanism blood pressure is the mechanism so cardiology needs to monitor the blood pressure of their patient before to prescribe an NSAID or also during the prescription time measure blood pressure at the beginning have it well controlled and monitor your patient blood pressure may go up substantially and we have many patients who experience blood pressure increases by more than 10 or 20 mmHg and that may be very relevant in an elderly lady with arthritis and preserved ejection fraction is struggling already having high filling pressure so you add another 20 mmHg and she has an event